Mecchi amici, ciao, sono Gianpaolo, benvenuti sul canale di Allontanarsi dalla Linea Gialla. Pillole iconografiche, oggi parliamo di stemmi araldici, ma ce ne sono tantissimi, e ogni stemma araldico si riconduce ad una famiglia pontificia e ci aiutano a stabilire con precisione la data di una opera d'arte, di un monumento, di una fontana, di un palazzo, quello che volete voi. Per esempio se su una fontana, come nel nostro caso quella dei quattro fiumi a Piazza Navona, notiamo uno stemma papale con tre gigli disposti orizzontalmente nella parte superiore dello stesso e a livello sottostante una colomba con un becco, un ramoscello d'olivo, ci saranno pochi dubbi. Siamo di fronte ad un'opera finanziata dalla famiglia Panfili. La famiglia Panfili ebbe il suo massimo rappresentante nel 600 in Papa Innocenzo X, sì, proprio questo qui è figgiato da Velázquez. L'Innocenzo X fu uno dei protagonisti della Roma barocca e non avremo difficoltà a trovare il suo stemma familiare sulle opere griffate da Borromini, da Bernini e da Pietro da Cortona.